Buonasera, buonasera da Telemolisi, dagli studi di Campobasso. Comincia questa sera un nuovo ciclo di trasmissioni del venerdì sera, ingresso libero, avete appena visto la sigla, una trasmissione che comincia proprio questa sera, questa settimana con l'argomento del giorno, Isernia, capitale della cultura italiana. Ci riuscirà o no a conseguire questo titolo? Ne parliamo con i nostri ospiti, ma prima un saluto, un ringraziamento a un caro amico che fino a poche settimane fa conduceva questo spazio televisivo, Giovanni Minicozzi. A lui tanti auguri e un ringraziamento per quello che ha fatto per Telemolisi. Spazio libero, la trasmissione che comincia stasera sarà condotta a turno dai vari giornalisti della redazione di Telemolisi, dal direttore Emanuele Petescia. Sugli argomenti più importanti, gli argomenti del giorno. Staremo sul pezzo. Tutte le cose più importanti della settimana noi le ricapitoleremo qui a spazio aperto, a ingresso libero, con voi, con l'ausilio dei telespettatori, con l'aiuto degli ospiti, con l'aiuto di collegamenti esterni e giornalisti. L'argomento della settimana sarà trattato a ingresso libero. Staremo sul pezzo. Telemolisi e starà sul pezzo. Un ringraziamento chiaramente per la fiducia al direttore Emanuele Petescia, all'editore Quintino Pallante. E ora basta con i preamboli e entriamo nel vivo dell'argomento che è quello di Isernia, capitale della cultura per il 2021. Un sogno, un'ambizione, una speranza, chissà che cos'è. Vediamo chi sono gli ospiti, chi abbiamo a noi stasera. Abbiamo l'assessore della cultura del Comune di Isernia, Eugenio Kmianischi, che possiamo dire che è il matto che ci ha pensato a questa cosa. Buonasera a tutti. Poi abbiamo a fianco a lui il nostro collega giornalista, scrittore, autore, cantante, non so più, Mauro Gioelli, il nostro caro amico. Poi abbiamo il presidente della provincia, nonché sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Buonasera Ricci. Buonasera. E infine abbiamo l'assessore, il vicepresidente della giunta regionale, assessore regionale al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno. Buonasera. Ma che cos'è questo sogno, questa ambizione, questa speranza di Isernia di conseguire questo prestigioso titolo che viene dato ogni anno alla città che presenta il migliore progetto, chiaramente alla città che ha il migliore e il più competitivo patrimonio storico-culturale. Una città all'anno viene scelta dal Ministero della Ricerca e quest'anno è stata scelta Parma. Ma perché Isernia può sperare nel conseguimento di questo titolo per il 2021? Vediamo la copertina della nostra trasmissione curata da Sergio Di Vincenzo. Vediamo perché Isernia può sperare. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura, istituito dal Ministro per i beni culturali Dario Franceschini nel 2014, è conferito per la durata di un anno. La città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato. Le città che hanno manifestato il proprio interesse devono presentare entro il 2 marzo i propri dossier di candidatura. Verranno esaminati da una giuria di sette esperti di chiara fama per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione. La città capitale italiana della cultura 2021 verrà scelta esclusivamente sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno, quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro la candidatura della città vincente. La capitale italiana della cultura per il 2020 è Parma. Per il 2021 sono 44 le città italiane candidate, tra loro Isernia. Ma quali sono le carte vincenti del capologo di provincia molisano? Non certamente la logistica, i trasporti o la disponibilità di strutture ricettive sufficienti. Questi sono punti a sfavore della città. Ma non dimentichiamo che Matera nel 2019 è stata capitale europea della cultura, pur essendo priva di collegamenti ferroviari. Quindi alla fine sono altri fattori che potrebbero risultare determinanti. Per Isernia, senza alcun dubbio, la storia, quello che c'è sotto i nostri piedi. Ci sono i resti della colonia latina di Isernia, costituita dopo la definitiva vittoria sui Sanniti. La città si sviluppò lungo le due strade principali, Cardo e Decumano. Il cosiddetto Cardo era proprio Corso Marcelli, il corso principale odierno. All'inizio del centro storico c'è un'ampia piazza, dedicata a Celestino V, con la fontana detta della Fraterna. E la Fraterna, simbolo stesso di Isernia, è una delle fontane più belle d'Italia, un puzzle di stili e pezzi. Lì c'è uno dei misteri dell'epigrafia, A e Pont. I migliori archeologi, incluso Momsen, non hanno risposto sul suo reale significato. Si imbocca poi Corso Marcelli, che prende il suo nome dalla Gens dei Marcelli, famosi diplomatici e militari esernini. Nel cosiddetto Vico San Felice si possono trovare negli scantinati di due palazzi i resti di cisterne romane. Ad Isernia, come in tutto il territorio romano, c'erano infatti fontane pubbliche e case private con acqua corrente. Ciò era dovuto alla grande maestria e ricchezza romana, con un complesso sistema di rete idrica sotterranea, afferma Stefano Iadopi nella sua storia di Isernia. Questo acquedotto parte dal ponte San Leonardo e va fino al cosiddetto Pozzo. In questo punto se ne devia un ramo che corre all'interno della città ed anima sette fontane pubbliche e circa 45 private. L'altro ramo, nel quale scorre maggior volume di acque, serve ad animare varie macchine idrauliche. Dove ora sorge la cattedrale, si incrociavano Cardo e Decumano. Qui c'era l'area pubblica, con foro, teatro e tempio. La cattedrale sorge sulla base dell'antico tempio, particolare nel suo genere. Scendendo al di sotto del pavimento della chiesa, si trova il frutto più particolare della romanità esernina, il podio e i resti del tempio italico. Il podio in tufo è unico perché ha una forma strana, ha doppio cuscino, perché ha delle sporgenze che ricordano proprio un cuscino, ed è una rarità. Dedicato a Giove, Giunone e Minerva, il tempio fu poi intitolato al divo Giulio Cesare e rivestito di marmo. Sempre nell'area della cattedrale troviamo la torretta di piazza Mercato, anch'essa testimonianza della civiltà passata, poi l'arco che dà succorso Marcelli, dove ci sono le antiche statue romane. E anche qui si sprecano le interpretazioni su chi volessero rappresentare, nobili, condottieri o altro, chissà. Tutto il centro storico è un dedalo di vicoli e piazzette e unico da visitare angolo per angolo, senza dimenticare i ruderi della chiesetta medievale lungo la strada che porta al cimitero, anch'essa dedicata a San Pietro Celestino. Ma torniamo su Corso Marcelli, dove alla fine, a sinistra, sulla cosiddetta via orientale, troviamo le mura poligonali, quelle che anticamente circondavano Isernia e ne garantivano la sicurezza. Da lì si scorge il santuario dei Santi Cosme Damiano e l'area del Paleolitico, dove c'è un museo unico in Italia, con i resti del paleosuolo di 700.000 anni fa e dove è stato trovato il famoso dentino. Il museo nasce intorno all'area archeologica di Sernia Lapineta e si articola in tre corpi di fabbrica di circa 4.000 metri quadri, uniti tra loro da un lungo corridoio esterno che accompagna il visitatore, grazie anche a una serie di grandi fotografie dedicate a tutti gli aspetti della ricerca, della didattica e della valorizzazione del sito e del museo. L'area archeologica è parte integrante del complesso museale, grazie a un padiglione di circa 700 metri quadri, caratterizzato da due percorsi posti a quote differenti, quello superiore destinato alle visite e quello inferiore dedicato ai ricercatori, che ancora oggi, in particolare nei mesi estivi, lavorano alle attività di scavo e studio dei materiali rinvenuti nel sito. La terza sala ospita tre sezioni ed espone reperti rinvenuti sul territorio molisano che coprono un arco temporale che va dal paleolitico inferiore al paleolitico superiore, dal neolitico all'età del bronzo. Completano l'esposizione una fedele riproduzione di un esemplare di elefante antico, grandi raffigurazioni pittoriche e ricostruzioni scenografiche, tra cui una tipica capanna paleolitica e una dell'età del bronzo. Queste sono le carte principali che Sernia si può giocare per diventare la capitale italiana della cultura 2021. Ce la farà? Chissà, ma già il fatto di provarci è servito a risvegliare una coscienza civica e un'unione di intenti e di positività che da anni non si riscontravano in città. Bellissimo il servizio di Sergio Di Vincenzo, complimenti al collega Di Vincenzo che ha fatto questa bella scheda così tutti hanno capito di che cosa parliamo. Diciamo all'inizio che ingresso libero ogni settimana starà sul pezzo, cioè noi ogni settimana tratteremo l'argomento più caldo, più effervescente per la pubblica opinione molisana. E senza dubbio la pretesa di Sernia di candidarsi a capitale italiana della cultura ha comunque smosso le acque in questo Molise sonnacchioso. Ne parlano tutti, da Termoli a Venafro, chi ne parla bene, chi ne parla male. C'è qualcuno che fa anche dei commenti molto pesanti sulle ambizioni di Sernia. Credo ingiustamente perché insomma se Sernia fosse premiata sarebbe bello per tutta la regione. Comunque a parte questo sicuramente ha smosso l'opinione pubblica quest'idea, quest'idea che per certi versi può sembrare davvero, come dire, troppo, troppo, troppo pretenziosa. Assessore Krenianischi, lei è quello che ha avuto quest'idea. Vabbè, qualcuno l'avrà anche sollecitata, magari qualche operatore culturale, però è davvero una competizione importante come quando lei ha pensato a questa cosa. Tre anni e mezzo fa. Assolutamente tre anni e mezzo fa, quando è iniziato il nostro mandato, l'obiettivo era proprio arrivare a una possibile candidatura a Isernia a capitare della cultura italiana. Questo perché Isernia ne ha tutte le caratteristiche e tutti i requisiti e si è lavorato in questi anni proprio per cercare di essere pronti a questo giorno. Nel corso di questi tre anni il nostro progetto era chiaro, forse non lo è stato da subito per la cittadinanza, adesso si inizia a intravedere meglio il progetto finale, ma abbiamo fatto una propaganda, un lavoro di marketing territoriale molto intenso. Abbiamo parlato di Paleolitico con degli eventi a tema, abbiamo parlato di San Pietro Celestino quest'anno per dire l'ultima, con una rievocazione storica di grande successo che ripeteremo nel 2020, con due edizioni, lo anticipo, una intorno al 19 di maggio, la festa di San Pietro Celestino, e un'altra, quella rievocativa, fatta più per la città, nel giorno del passaggio di San Pietro Celestino a Isernia, tra il 14 e il 15 ottobre. Abbiamo parlato del periodo sannita di Isernia, abbiamo parlato della conquista romana. Al senso, queste sono cose che già ha detto di Vincenzo, ma lei ci deve dire come può pensare di poter vincere la concorrenza di città come Genova, Taranto, L'Aquila, insomma, come è possibile arrivare a questo risultato secondo lei? Per chi è a Isernia mancano tante cose, mancano tante cose che possiamo avere in qualche modo, ma abbiamo tante peculiarità che nessun altro al mondo potrà mai avere, che sono delle unicità al mondo, e c'è una sorta di congiuntura positiva nei confronti di questa candidatura, sembra che anche altri abbiano studiato e progettato con noi le date per presentare la candidatura, perché guarda caso noi ci candidiamo e il Times inserisce il Molise tra le 52 metri da visitare nel 2020, la transumanza entra a far parte del patrimonio dell'UNESCO, il merletto dal quale stiamo lavorando da due anni insieme ad altri comuni d'Italia sta per presentare la propria candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO, c'è una sorta di congiuntura astrale favorevole, c'è ovviamente chi rima contro, questo fa parte del gioco, non mi stupisco, qualcuno dice di Sernia siete troppo pretenziosi, com'è possibile una città di 20-22 mila abitanti che possa competere per una cosa del genere? Questo ci tengo a dirlo, non mi stupisce il cittadino che faccia questa critica, perché è giusto fare una critica del genere quando non si addentri a determinati ambienti, meno giusto e molto ingiusto nei confronti della nostra città è quando queste critiche avvengono da presunti operatori culturali, questo offende non me, me in qualità di assessore alla cultura sicuramente, ma offende un territorio intero, io credo che a prescindere dalle ragioni che abbiano portato determinati soggetti a deridere la nostra città, a prescindere da questo, avrebbero dovuto tacere, avrebbero dovuto esagerare, perché hanno dimostrato sia una mancanza di intelligenza che di tatto, tutto qui. Bauro Gioielli, lei oltre a essere un artista, un operatore culturale, conosciuto per tante cose, lei certamente è versatile dal punto di vista caratteriale, ma è anche membro della commissione che dovrà esaminare i progetti e le intenzioni, insomma, i preventivi che verranno presentati per tutto ciò che è collaterale ai Senni Capitale della Cultura. Ricordiamo che il Ministero ogni anno dà un milione di euro alla città che ottiene questo riconoscimento. Allora, quindi lei sta in questa commissione e lei dovrà dire sì o no. È preparato per questo compito? Ha sulle spalle la responsabilità di quello che farà? Certamente sì. Ci dice anche chi sono gli altri membri? Gli altri membri sono Emilia Vitullo, conosciuta, Isernia funzionale regionale, ha lavorato, lavora la provincia, l'ufficio turistico della provincia, e Gabriele Venditti che è il direttore della biblioteca comunale, nonché capo ufficio cultura del comune. Siamo stati scelti, ma siamo consapevoli di questa responsabilità. Speriamo che le proposte che arriveranno sul nostro tavolo siano all'altezza, se ne sono sicuro. Ci sono tantissimi spunti, però chi vorrà fare delle proposte dovrà tenere comunque presente quello del bando nazionale. Ci sono delle direttive da seguire, delle linee guida, una cultura intesa come cultura non divisiva ma inclusiva, rispetto a delle generazioni anziani, giovani, una cultura che possa portare anche a uno sviluppo sociale ed economico, anche attraverso il turismo. Quindi porte aperte alle idee di tutti. Di tutti, esatto. Bene ha fatto l'amministrazione ad aprire anche democraticamente in questo senso. Avrebbe potuto benissimo costruire il dossier autonomamente all'amministrazione comunale, invece ha aperto giustamente agli operatori culturali del nostro territorio. Quindi chiunque potrà fare domanda al comune di Sernia con un progetto per presentare la propria proposta, che può essere una proposta di hospitality, una proposta di incoming, una proposta di accompagnamento culturale, di guida, di manifestazioni, soprattutto, e anche qui è importante dirlo, la città che vincerà questo titolo dovrà presentare un cartellone lungo un anno di avvenimenti e di eventi che attirino nella città quanti più turisti e visitatori possibili. Una domanda curiosa a Mauro. Insomma, ha visto la scheda di Di Vincenzo, Mauro? Sì. Una scheda impeccabile. Manca qualcosa. Che c'è che non va? No, no, va bene, però io l'avrei integrata. Però mi rendo conto i tempi di una scheda giornata. Così come aveva fatto menzione ad alcune manifestazioni popolari, tradizioni nostre, la fede delle cibole. Se tu vuoi che io dica qualcosa su Sernino, ecco, Sernino è uno dei due gladiatori più importanti della storia, conosciutissimi insieme a Placidiano, venivano menzionati come i massimi esponenti di una professione, di un mestiere nell'antichità. Nelle arti, come dire oggi Caruso e Pavarotti, o nel calcio dire Messi e Ronaldo. Quindi menzionare Serninus e Placidiano aveva questo senso. C'era addirittura un motto latino, un proverbio latino, che racconta questo episodio. Quindi diciamo, già stiamo parlando del secondo secolo a.C. Già c'era come Serninus di cui si parlava. Mauro, e lei si è cimentato sulla scoperta del significato di A e Ponte? Siccome ognuno la vede in un getto... No, so di tante interpretazioni. Qualcuno all'inizio aveva pensato A e come famiglie, Ponte, nel senso di Ponte o Ponte, ma in latino famiglia dovrebbe dirsi gens, quindi già siamo un po' fuori tema. Mi sembra molto tirata come interpretazione. È difficile, credo che sia un pezzo di un epiglata molto più grande, o comunque più grande, di una scritta diversa o molto più completa. Però ci sono da punto valente, hanno fatto delle interpretazioni. Alfredo Ricci, la provincia sta al fianco della città di Isernia in questa occasione, in questo evento, in questa impresa, che sarà un'impresa difficilissima, un'impresa memorabile, un'impresa straordinaria, qualora riuscisse a raggiungere il risultato? E come starà a fianco del Comune di Isernia? Io proprio qualche giorno fa mi sono sentito con l'assessore Cnenischi e gli ho fatto i complimenti innanzitutto per questa idea che ha inteso, insieme all'amministrazione, al sindaco da Polonio, lanciare. Perché credo che sia assolutamente un'idea che nasce vincente per il fatto stesso che si sia pensato di portarla avanti. È un'iniziativa brillante che porta comunque il territorio di questa città alla ribalta nazionale. Comunque vada, dico, sarà un successo dal momento che crea... Comunque vada, parleranno di Isernia. Ma certo, intanto crei un fermento all'interno della città. Diceva l'assessore giustamente, forse chi è un po' più critico, mi auguro che quantomeno o si ricreda o si tisca quanto prima, perché queste sono iniziative rispetto alle quali bisogna fare molto squadra. Se si fosse avviato un dibattito sul se presentare la candidatura, allora ognuno poteva dire la sua, ma siccome si è scelto di andare, è opportuno che ognuno raccolga questa opportunità che si dia alla città. Allora, secondo me, è positivo perché ci sarà sempre di più un crescendo di fermento e comunque sia, si leggerà a livello nazionale il dossier di una città della nostra provincia e della nostra regione, del capoluogo di provincia, della città di Isernia. E quindi porti un pezzo importante di Molise a livello nazionale. E poi, chi lo ha detto che Isernia, sol perché è più piccola e meno blasonata in teoria di altre città, non possa giocarsi questa opportunità, come diceva l'assessore, portando ciò che la caratterizza. Rispetto a questo, io come provincia, lo diceva l'assessore qualche giorno fa, noi mettiamo intanto a disposizione tutte le strutture che in qualche modo la provincia ha ancora, perché sappiamo che oggi la provincia, dopo la leggeria, non ha più funzioni formalmente in materia di turismo e di cultura, però sappiamo anche che ha un patrimonio anche di immobili, per esempio su Isernia c'è la biblioteca provinciale, c'è il museo del costume, c'è il centro di ricerca sul paleolitico, come anche c'è tutto un patrimonio di esperienze che in qualche maniera noi mettiamo a disposizione del comune di Isernia per questa candidatura. Ci devono dire che cosa ritengono che noi possiamo fare e sicuramente noi lo faremo, perché credo che è una sfida importante per tutto il territorio della nostra regione e non soltanto per il territorio della città di Isernia. Questo è il merito che va dato, avere l'ardire di pensare grande, credo che è qualcosa che possa in qualche modo segnare la svolta anche quando si parla di promozione del territorio, di marketing territoriale. Per questo io dico complimenti all'assessore e all'amministrazione comunale che hanno avuto questa intuizione e questa idea. Hanno avuto il coraggio di osare, insomma, no? Ma sì, chi non osa, insomma, è chiaro che resta sempre indietro. Poi noi cerchiamo di essere, dico io, poco molisani in questa occasione. Ecco, parlare, cercare di sminuire, di buttarci a terra, perché noi molisani abbiamo questa capacità delle volte di sentirci sempre piccoli ed emarginati. Questa è un'occasione in cui invece possiamo osare, cercare di puntare in alto, far valere quelle che sono le nostre tipicità. Noi non stiamo concorrendo, per esempio, con Genova, come diceva lei, e con quello che Genova ha o che altre città più note a livello nazionale possono avere. Noi credo che dobbiamo concorrere, poi il dossier ovviamente lo curerà l'amministrazione. Anche questa idea di questa partecipazione è un'idea vincente, secondo me, perché crea tutto quell'entusiasmo nella città che non può che essere utile. E poi perché solo i presuntuosi si mettono davanti allo specchio e hanno già le ricette pronte. Invece questa partecipazione, tra virgolette, popolare a livello di associazioni, di operatori del settore non può che far bene. E sicuramente da questo punto di vista fare squadra a livello di istituzioni, a livello di società civili, a livello di cittadini, può essere un ingrediente in più per portare a livello nazionale quello che caratterizza Isernia, la città di Isernia. Sergio Di Vincenzo ne ha dato un assaggio. Giustamente diceva Mauro Gioielli, si potrebbero aggiungere tante cose, ma per questo c'è il dossier che presenterete. Io credo che se Sergio Di Vincenzo avesse dovuto dire tutto quello che immaginava Mauro Gioielli, noi qui non dovremmo provare a fare due ore con Sergio Di Vincenzo. Chiaramente Sergio è stato stringato e ha detto le cose più importanti, e ha fatto un bellissimo servizio. Assessore, nonché vicepresidente della Regione Cotugno, questo è un passaggio delicatissimo per lei, per la Regione, non solo per la città di Isernia, insomma. Qui è in gioco con Isernia la bandiera della Regione Molise. Senza dubbio, ormai la città di Isernia ha lanciato il guando di sfida, ma ormai abbiamo fatto il primo passo e dobbiamo fare qualcosa per stare vicini a Isernia. Io, dicevo, non solo ha detto Mauro, quest'anno sembra che tutte le costellazioni girino a favore del Molise, e Isernia potrebbe prendere questo slancio proprio sull'onda del fatto che organi di informazione come il New York Times, come l'UNESCO, ma tanti altri, poi ci sono continui, la BBC mi sembra che ha fatto anche un servizio sul Molise, insomma, varie televisioni continuamente arrivano, il Molise c'è, il Molise non c'è, il Molise esiste, il Molise non esiste, e addirittura un organo di informazione straniero ha spiegato perché il Molise esiste ed è bello e bisogna visitarlo tra i 40-50 posti scelti in tutto il mondo come posti da poter e dover visitare. Il Molise c'è, insomma, sta succedendo qualcosa, tutto insieme, tutto quest'anno, i tratturi, e Assessore, lei sta lì sul coguzzolo della montagna, alla Regione, che cosa farà per dare una mano a Isernia? Ma intanto io dico che tutto questo non succede per caso, c'è un lavoro dietro, un lavoro di grande qualità, è un lavoro soprattutto di squadra, partendo dalla Regione per finire a tutte le amministrazioni locali, le associazioni, tutti che abbiamo remato, tutti nella stessa direzione e abbiamo raggiunto questi risultati, perché sono risultati che, che se ne dica, vengono e sono frutti di un grande lavoro. Quindi non è una coincidenza, Assessore? Ma assolutamente no, nulla avviene per caso, è il riscatto di una regione, di quella regione che non esiste, e invece la Regione Molise esiste, con le sue peculiarità, le sue bellezze, la sua storia, la sua cultura, e se ne sono accorti in tanti. Stiamo facendo come Regione Molise, come Governo regionale, un grande lavoro, siamo partiti con il piano strategico del turismo, abbiamo disegnato un vero e proprio piano di sviluppo di questa regione, una regione che ha carenza di infrastrutture, ha carenza di accoglienza, ha carenza di tante cose, però bisogna cominciare da qualche parte. Noi dobbiamo anche smetterla di piangerci troppo spesso addosso, in ogni occasione, come quella della candidatura di Isernia. È stata un'idea vincente, io dico, l'ho appoggiata immediatamente, mi sono complimentato con il sindaco, con l'assessore, con l'intera amministrazione comunale di Isernia, non per il coraggio, perché la scheda andata in onda è una scheda che ha fatto vedere uno spaccato straordinario della città di Isernia, anche se, come diceva giustamente Mauro, mancano tanti pezzi, significa che ancora c'è molto da raccontare e sono delle unicità che solo Isernia ha. Se noi pensiamo che qualcuno aveva pigliato per pazzo chi aveva proposto la candidatura di Matera, che poi ha rappresentato il riscatto non solo della città di Matera, ma dell'intera Puglia, dell'intero Mezzogiorno d'Italia, a livello europeo è stato un grandissimo successo, perché noi dobbiamo essere critici con la candidatura di una città come Isernia, che non dimentichiamo, è stata la capitale della Lega Italia, la capitale d'Italia della Lega Italia, la prima capitale, quindi diciamo che abbiamo tanto da spendere, stiamo facendo un grande lavoro, ma io vorrei sottolineare la grande sinergia istituzionale e di partecipazione generale su tutti i progetti che stiamo mettendo in campo con tutte le associazioni e soprattutto il governo regionale. Bene ha fatto l'amministrazione comunale di Isernia ad allargare il dibattito con la città, quindi la proposta, il dossier, non si è limitato a costruirlo all'interno della città, ma lo ha aperto al contributo di tutti e quindi questo significa condivisione, partecipazione, significa quello che un'amministrazione illuminata deve fare. Significa anche presenza, quello che manca al Molise, e diciamo la verità onestamente, è la presenza. Noi sì, ci fanno gli articoli, vengono qui, ci fanno gli articoli, ma poi noi non siamo presenti sui grandi organi di informazione nazionale. Non è vero, noi lunedì avremo da Altilia una diretta per esempio per uno mattina su Rai 1. D'accordo, ma noi per esempio ci sono altre regioni che fanno anche sponsorizzare manifestazioni, fanno pubblicità sugli organi di informazione nazionali, oltre che regionali. Secondo me il discorso del marketing è importante. E infatti noi siamo partiti con il bando per il progetto della comunicazione regionale all'interno del piano strategico del turismo che è in atto, ci sono 42 aziende italiane a livello italiano e internazionale che hanno partecipato al bando per disegnare un progetto di comunicazione. Lo vedete che ci aveva ragione? Hai visto l'assessore? Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo subito dopo con l'intervista, una bella intervista a un signore che ci dirà perché Isernia può vincere questo titolo, ma ce lo spiegherà, diciamo così, storicamente. Pubblicità. Eccoci di nuovo in studio e diciamo che l'assessore Cotugno mi ha rubato la notizia. Isernia, oggi capitale della cultura, potrebbe, aspira, sogna di diventarlo, ma Isernia era capitale già duemila anni fa. Ascoltiamo questa storia che ci racconta Nicola Mastronardi, il nostro inviato nel mondo di duemila anni fa. Qui sotto il Torrino, nel centro storico di Isernia, incontriamo Nicola Mastronardi, l'autore di due romanzi, Vite Liù e Figli del Toro. Ma perché lo abbiamo invitato alla nostra trasmissione? Perché nel suo secondo romanzo, Figli del Toro, che tra l'altro sta andando benissimo, in Figli del Toro ci sono due episodi che riguardano la città di Isernia. Il primo episodio è quello della confluenza qui di tutti i sanniti che fuggivano da Corfinio e il secondo episodio è l'assedio. Insomma, in questo romanzo Isernia fa la parte del leone, Nicola? Sì, sicuramente. E soprattutto l'assedio in Figli del Toro viene trattato in tre capitoli. L'assedio di Isernia fu un episodio storico incredibile. Raccontamelo dall'inizio. Che succede? Perché i sanniti vengono a Isernia? Allora, i sanniti arrivano ad Isernia perché Isernia è una colonia, una spina del fianco da 200 anni di Roma nel cuore del Sannio. E quindi 200 anni prima, nel 260, circa 200 anni prima, era stata fatta colonia ed era stato preso una parte del territorio sannita dai romani proprio come presidio romano nel cuore del Sannio. ed è sempre stato, in tutti i periodi storici, un presidio straordinariamente importante per la viabilità nord-sud dell'Appennino. E quindi questo andava presidiato. E quindi da 200 anni i romani erano qua. Quando scoppia la guerra sociale, e cioè i sanniti si uniscono con altri 11 popoli per costruire Italia su questi monti, per costruire l'idea, una confederazione che si chiamò Italia su questi monti, i primi presidi che attaccano sono le colonie romane all'interno degli ex territori. Quindi Isernia, Alba Fucens, fra le più importanti. Quindi arrivano Isernia per riprendersi il territorio, cacciano i romani, giusto? Certo, cacciano i romani e Isernia diventa prima di tutto un presidio straordinario perché era una fortezza imprendibile. In realtà non è stata presa dai sanniti in quell'episodio. Siamo fra il 91 e il 90 a.C. Fu presa per fame dopo un anno di assedio. È epico, è straordinario, è una pagina di storia italiana bellissima. Poi divenne un presidio italico imprendibile, altrettanto imprendibile per i romani. Tant'è vero che divenne prima capitale dopo che Corfinio, la prima capitale della Confederazione Italica, cadde in mano ai romani, la capitale si spostò prima a Boiano e poi a Isernia. Isernia divenne l'ultimo baluardo della resistenza italica contro Roma. Cadde solo nell'80, pensa, nell'80 a.C. naturalmente. Quindi qui a Isernia che succede? Questa Confederazione di Popoli Ostili ai Romani, che fa qui a Isernia? Perché è così importante Isernia nella nascita dell'entità italiana? Io credo che i numeri che Isernia si debba giocare e il territorio isernino si debbano giocare passano anche attraverso questa storia. Dobbiamo rendere noto agli italiani e a noi stessi saperlo ancora di più che qui è nata la Confederazione che per la prima volta segnò un'entità politica che si chiamò Italia. batte moneta e fu il primo seme, come dice il professor Adriano La Regina, di quella che poi sarà l'Italia unita, che sotto Augusto verrà addirittura unita fino alle Alpi. Ma il primo seme è stato gettato da noi, dai Sanniti Pentri, in questo territorio. E io credo che la nascita di Italia... Ecco, tutte le altre città, sappiamo le 43 candidate quali sono, hanno qualcosa da raccontare. Noi abbiamo da raccontare la nascita di Italia in questo territorio. Io credo che sia una bella carta da giocarci. Ecco, nel tuo romanzo, insomma, Isernia l'ha fatta padrona? Isernia in questo caso? Ma sì, perché la storia che è passata qui, in Molise, e in particolar modo in provincia di Isernia, in quel periodo fu la grande storia. Noi fummo, i Sanniti Pentri, con gli altri dodici popoli italici, ma soprattutto i Sanniti Pentri, furono i protagonisti assoluti della storia di Roma, della storia d'Italia, quindi della storia universale. E poi c'è l'episodio sanguinoso, insomma, della distruzione di Isernia da parte di Silla, dico bene? Sì, la trilogia poi... Poi, ecco, questo quando viene fuori? Ecco... Nel tuo secondo romanzo? Nel secondo e nel terzo romanzo che seguiranno Fili del Toro ci sarà tutta l'evoluzione della posizione di Isernia rispetto alla Confederazione e rispetto a Roma. Alla fine Silla prevarrà, ma tutti gli italici vinceranno perché saranno fatti cittadini italiani come volevano. Il motivo per cui scoppiò la guerra sociale era quello. Gli italici però vinsero, vinsero. Certo, ai Sanniti Pentri fu fatto un trattamento che poi diremo, col secondo e terzo romanzo. Perché Nicola, insomma, poi la civiltà sannita ha fatto la fine di quella etrusca, viene cancellata dai vincitori, dai romani. Ancora peggio degli altri popoli. A noi, i Pentri, è stato riservato da Silla un trattamento che raramente... Lo stesso che gli romani hanno avuto con gli altri popoli. Lo stesso che successe a Cartagine. La cancellazione dalla faccia della terra e addirittura, per ciò che riguarda noi, il tentativo di... Non solo di genocidio, ma di cancellazione della memoria, dell'esistenza di questo popolo. Un'ultima cosa, Nicola. Secondo te Isernia ha delle carte da giocarsi per ottenere questo riconoscimento di capitale italiana della cultura? Sì, se raccontiamo la grande storia, le risorse del tutto il territorio della provincia, non devo ricordare io che Pietrabbondante, San Vincenzo al Volturno e tutto il resto che c'è nel nostro territorio, se tutto il territorio verrà, come dire, presentato nella maniera giusta e narrato nella maniera giusta, io credo che anche noi abbiamo assolutamente carta in regola per poter raccontare una parte importante della cultura italiana. Bene, abbiamo sentito il nostro inviato, il nostro collega giornalista inviato nella storia di Senna di duemila anni fa e volevo ricordare che il romanzo di Nicola Mastronardi, Figli del Toro, è qualcosa di bellissimo, ma soprattutto è stato prodotto da una casa editrice molisana, la Volturnia, ed è stato stampato da una casa tipografica Isernina, quindi tutto made in Molise, made in Isernia. Assessore Canianischi, un bel biglietto da vista, insomma poi alla fine il più grande promotore di questa idea è lo scrittore Mastronardi. Guardi, sempre a proposito di congiunture astrali positive, quest'anno il primo appuntamento culturale della città di Isernia è stata la presentazione del libro di Mastronardi alla biblioteca comunale e anche il suo libro è da sprono per quello che dovrà accadere a che Isernia possa diventare capitale per la seconda volta. C'è una frase del libro di Mastronardi che è particolarmente bella e che lui utilizza anche per la sua promozione, sia a livello di comunicazione che di marketing, che è giurarono e fu così che nacque Italia. Beh, questa sorta di giuramento è quello che vorrei proporre anch'io al territorio molisano tutto. Perché è vero, Isernia ha tanto, ma Isernia può avere ancora di più. Se a far squadra con Isernia c'è tutto il territorio che gli è attorno. Io con piacere ho ricevuto ad oggi due telefonate degli amministratori pubblici, scusa quella dell'assessore regionale ovviamente, che sono quella di Alfredo, ci siamo sentiti... Quindi Codugna non ha chiamato? No, no, mi ha chiamato, mi ha chiamato. Sto parlando di amministratori locali, non di enti regionali. Sto parlando dei comuni soprattutto. Ho ricevuto la telefonata di Alfredo con il quale abbiamo parlato anche di avere la disponibilità della dottoressa Vitullo per la composizione della commissione che poi dopo qualche giorno il sindaco ha ratificato e nel farmi complimenti ha dato la sua disponibilità come amministratore sia del comune di Venafro che dell'ente provincia e il comune di Macchia si è fatto avanti e mi hanno anticipato, non sono voluti scendere nel dettaglio, che loro vorranno presentare un progetto alla nostra città che sia da vetrina per il loro territorio e questo è un modo intelligente di fare squadra. Io dico sempre, siamo 52 comuni in provincia di Isernia e l'anno è composto da 52 settimane. ogni settimana può essere dedicata a un paese del comune di Isernia, della provincia di Isernia e in un anno di capitale della cultura italiana si potrebbe utilizzare Isernia, capitale della cultura, come vetrina per fare da promozione a tutto il territorio provinciale. In questo modo l'offerta culturale sicuramente si arricchirà e faremo sapere al mondo intero quanto forte e quanto vivo ancora è l'orgoglio sarnita che scorre nelle nostre vene. Ma questo è vero, insomma, il fatto dell'orgoglio di questa riscoperta della identità culturale perché insieme all'amico mio Lorenzo Lommano, così, anzi più lui che io, io sono arrivato dopo, abbiamo creato un gruppo su Facebook Isernia, capitale della cultura e nel giro di una settimana siamo arrivati a 3.500-4.000 iscritti di gente che va lì e scrive sul gruppo perché è giusto che Isernia diventi la capitale della cultura italiana. Mauro Giovelli, anche lei è uno scrittore, un giornalista, ha fatto tanti di quei libri, anche lei. Se lei dovesse scrivere un libro sulla storia di Isernia e spiegare in un libro perché Isernia può correre per ottenere questo riconoscimento, che libro scriverebbe, Mauro? Io scriverei un libro sul 200 Isernia, perché il 200 è stato il secolo massimo splendore di Isernia. È il secolo in cui sono nati Pietro Angialerio, Celestino V, Andrea di Isernia, grande giure consulto. È il secolo in cui San Francesco è venuto a visitare la nostra città. È il secolo in cui è stata fusa una campana bellissima che viene conservata a Isernia, una campana con la datazione del 1259. È un secolo molto, molto importante per la città. Però ha tutta la storia di Isernia, ha una grande civiltà, una grande profondità storico-culturale Isernia. Questo è indubitabile. Abbiamo visto nei servizi parlare, abbiamo sentito parlare di Isernia, una storia antica, anzi anche la preistoria, se pensiamo al paresolo. Poi la storia latinosannita, ma anche nei secoli successivi Isernia è stata importante, ha dato i Natali a grandi personaggi. Nel Cinquecento il poeta onorato Fascitelli, nel Settecento c'è stato il boom del turismo. Prima si parlava di turismo. Nel Settecento, alla fine del Settecento, la prima parte dell'Ottocento, Isernia era meta del Grand Tour europeo. I grandi aristocratici, i grandi nobili, i grandi intellettuali dell'epoca venivano Isernia perché era esplosa quella moda di andare a visitare l'erimo dei Santi Cosme e Damiano per via del culto di Priabo. Ecco, raccontiamola un po' questa storia così hot, così scabrosa. Isernia, perché colpisce anche la fantasia, tra virgolette, erotica dei visitatori? Raggiunse pochissimi anni una notorietà europea incredibile perché Hamilton, che era ambasciatore britannico nel regno di Napoli, William Hamilton, scrisse una lettera al Parlamento britannico. Sono andato a Isernia, ho trovato questa festa, prima e dopo le cerimonie religiose vengono venduti degli ex voto a forma di fallo, quindi un culto che si rifà all'antico culto di Priabo. Una cosa molto interessante, una sopravvivenza pagana molto importante. mandò questa lettera, la lettera fu letta, poi nacque un libro alcuni anni dopo che ha avuto un grande successo editoriale. Questa scoperta incuriosì tantissimo gli stranieri che venivano quasi avuti dalla Scosa, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Svizzera. Il conte Marco Ulisse Masclins venne e scrisse anche lui in un libro di memoria questa visita a Isernia. Quindi diciamo che era una tappa del Grand Tour. Venivano i turisti dall'estero a Isernia nel Settecento. Ecco, veniva, insomma, anche le donne che non riuscivano a restare in città. Sì, la lettera di Hamilton è molto particolare perché entra nei dettagli. Praticamente le donne sterili, le maritate che sterili non avevano figli, chiedevano la grazia ai Santi Cosme e Damiano. Sappiamo che sono i Santi Medici. Prima la chiedevano a Priabo, ma secoli prima. Esatto. Si pensa che dove è situato l'eremo oggi ci sia stato un tempio pagano, appunto, dedicato a Priabo. Questo non è certo, comunque è presumibile. E quindi si chiedeva che era il dio della fertilità, del vigor sessuale maschile soprattutto, ma anche della fertilità dei campi. E quindi chiedevano questa grazia e poi racconta che spesso tornavano nei paesi di origine e ne aspettavano effettivamente un bambino. Diciamola tutto, insomma, Hamilton disse agli inglesi, se volete, venite a Isernia, insomma. Eh sì, no, però la cosa... E anche questo, insomma, è cultura. Fu una grande pubblicità per la presenza. E anche questo è cultura. E certo. Accadeva nel sette... Il 1786 il libro con la lettera di Hamilton, a fine del settecento. Però poi per tutta la prima parte dell'Ottocento sono continuate le visi dei visitatori stranieri. Alfredo Ricci, lei nella sua amministrazione c'è Emilia Vitullo, una delle componenti della commissione di tre persone che dovrà scegliere i progetti. E il ruolo della provincia, insomma, è importantissimo. Voi anche con la cultura, lei l'ha detto lei stesso, avete l'antica biblioteca Momsen, che quella lì anche dovrebbe essere valorizzata un po' di più, giusto, Presidente? Anche lì abbiamo attraversato un periodo un po' grigio-scuro, o no? Sì, come no, ma... C'è lo spartiacco quando parliamo di provincia, che è la legge del Rio del 2014, io credo che... Però qualcosa sta cambiando. No, per questo... Oggi ho saputo che l'hanno dato allo stipendio. Eh, così dico, no, così dico. Prima ci stava gratis in via aberta, da oggi avrà lo stipendio, per lo meno. No, chiariamola perché apro una parentesi, perché oggettivamente si è previsto di equiparare l'indennità a quella del sindaco del capoloco di provincia, però non è cumulabile con l'indennità di sindaco che io prendo già come sindaco di Venafro. Prenderà la differenza. In sostanza c'è una differenza, non so quanto... Ma già è tanto, visto che c'è andato gratis. C'è andato gratis per... Il concetto è più un principio... Il sindaco guadaglia molto meno del sindaco di Venafro, quindi... Eh, quindi non lo so. Va bene. Dovrai restituire qualcosa, per differenza. Sì, perché noi penso... Però probabilmente fanno riferimento... Non so. Va bene. Comunque sia. Giusto per chiarire perché... Sta cambiando. Non c'è la doppia indennità, questo è solo da chiarire perché era passato qualche messaggio un po' sbagliato. Al di là di questo, dicevo, sicuramente segnalo spartiacque perché oggettivamente dal 2014 quando hanno studiato quella legge per studiare la quale probabilmente occorreva una laurea ad hoc in follia perché non era semplice ingegnarla, per fortuna poi ci hanno pensato i cittadini a bastonare evitando l'eliminazione delle province. Però chiaramente a quel punto, nel momento in cui la provincia ha perso queste funzioni in materia di turismo e di cultura, in genere di promozione del territorio, si è posto un problema sul patrimonio che in ogni modo negli anni, nei decenni, la provincia, noi il 3 marzo faremo 50 anni, festeggeremo il cinquantesimo anniversario dalla fondazione della provincia di Serna. Che state preparando, Presidente? Allora, noi su questo io stasera, anzi, a questo punto approfitto anche di questa occasione, io ho intenzione, già abbiamo iniziato a ragionare in queste settimane, di dare un giusto riconoscimento che possa passare proprio per il momento positivo che si sta vivendo a livello nazionale di un rilancio delle province, si è capito che le province non sono o non sono state eliminate, ma non possono essere eliminate, che quello che hanno fatto finora non è andato contro gli amministratori provinciali o contro le province intese come enti, ma è andato contro i cittadini, perché le strade vengono percorse dai cittadini e non dai palazzi, le scuole vengono frequentate dai ragazzi e non da altri e quindi tagliare le province ha comportato tagliare dei servizi per i cittadini. Allora, in questa fase di rilancio noi stiamo pensando a un evento che possa essere anche un evento nazionale, alla cui organizzazione io chiamerò a collaborare i presidi. Quando compie 50 anni nella provincia? Il 3 marzo. Quando chiudono il periodo delle... Il 2 marzo. Il 2 marzo si chiude, insomma, e quando si saprà qualcosa? Se siamo ammessi o no la seconda fase? Le date per la comunicazione non si sa, ma il secondo step è fine aprile, quindi entro la metà di marzo... Vabbè, quindi il 2 marzo, 3 marzo, proprio cascate come il cacio sui maccheroni, Ricci. Dicevo, all'organizzazione di questo evento ho intenzione di chiamare a partecipare i miei predecessori, per gli ex presidenti della provincia e qualcosa glielo ho accennato, ma ancora non sa bene che cosa ho pensato, ma io credo che un ruolo importante lo debba avere anche il presidente Santoro, che è stato il sindaco di Sernia quando è nata la provincia di Sernia. Gli ho accennato qualcosa via messaggio, non gli ho ancora spiegato bene quello che ho in mente per lui, perché credo che è una risorsa importante, non solo storica, ma di intraprendenza di vitalità e ha avuto un ruolo storico che oggi la città e la provincia di Sernia sicuramente gli riconoscono. In questo discorso, ecco, nonostante però questa situazione, la provincia ha cercato di continuare a portare avanti in questi anni quello che negli anni come esperienza, ma anche come patrimonio, noi abbiamo parlato sui Sernia del museo del costume, della biblioteca provinciale, del centro di ricerca sul paleolitico, ma abbiamo ancora anche l'osservatorio astronomico su San Pietro Avellana, insomma una serie di strutture, il presidio turistico in grado di attirare le persone. Che ha lavorato negli anni, ora è chiaro, in questi anni e ancora adesso noi abbiamo portato avanti... Presidente, ma la biblioteca l'avete riaperta in funzione? Noi sulla biblioteca abbiamo in programma un progetto che grazie all'intervento della regione... Ma adesso è chiusa e è aperta. Ad oggi la biblioteca con grande sacrificio continua comunque a dare dei servizi. Tenga presente, lì erano tanti universitari a studiare. Esatto, però dobbiamo continuare ancora più a rilanciarla. Noi abbiamo il fine dicembre, gli ultimi giorni di dicembre abbiamo, grazie all'aiuto della regione, con il Presidente Tom abbiamo ragionato molto, ci siamo sentiti anche con l'assessore Cotugno, evidentemente c'è bisogno di un contributo regionale per poter continuare a far lavorare e a rendere in qualche modo utili per il territorio queste strutture, perché venute meno le funzioni noi non abbiamo più le risorse da dedicare a questi servizi. Però è un patrimonio che c'è, non può essere disperso e che soprattutto è a disposizione appunto del territorio. Fare squadra, filiera istituzionale su obiettivi comuni, come può essere in genere tutto ciò che è marketing territoriale, ma oggi in particolare questa candidatura significa anche questo. Ecco, marciare uniti. Io credo che da questo punto di vista, ecco, una partecipazione di tutti, come stiamo cercando di fare, di mettere in piedi, possa aiutare, aiutare ad avere più consapevolezza di quello che c'è. Noi partecipiamo alle vetrine nazionali e oggi anche a questa vetrina di Isernia, capitale della cultura italiana, con quello che abbiamo. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo partire, questo è un po' anche lo spirito dei bando turismo e cultura su cui si è lavorato l'anno scorso e si sta lavorando in questi giorni, scadrà a breve il bando del 2020 della Regione Molise, partire da quello che c'è, cercare di valorizzarlo, valorizzare non con interventi, con finanziamenti a pioggia perché non serve a nulla, però questa è la, e anche la, devo dire, devo dare atto all'assessore Cotugno, al Presidente Toma, della svolta che c'è stata in questi quasi due anni di nuovo governo regionale, cercare in qualche modo di mettere a sistema quello che ognuno di noi aveva. Ecco, in questo io credo, ma lo dico non perché questa trasmissione è dedicata alla candidatura di Isernia, ma io credo che questo è un tassello importante in questa strategia. L'impegno per esempio che la Regione ha avuto in queste settimane, partecipando negli Stati Uniti, essendo ospite d'onore dell'Assemblea annuale del NIAF e poi tutto quello che ne è venuto fuori, Washington Post, New York Times, Corriere della Sera, Gambero Rosso, l'attenzione che è stata data al Molise non è casuale, è il frutto comunque di un impegno che c'è, di un lavoro certosino. Dobbiamo solo portare la gente, assessore Cotugno, dobbiamo fare un po' di incoming, portare proprio la gente qui, con la rete ferroviaria nostra e un'impresa, con le strade, altrettanto che bisogna fare. Intanto però le faccio una domanda che è arrivata da un telespettatore che le chiede perché la Regione non organizza corsi di formazione per guide turistiche e ambientali riconosciute dal Ministero? Giorni fa si è iniziato proprio un corso di formazione delle guide turistiche nella Regione, ci sono 15 o 20 partecipanti e si stanno facendo. Ieri in Commissione Turismo a Roma si è parlato della problematica perché sono tre anni e mezzo che si sta discutendo delle guide turistiche a livello nazionale e c'è stata qualche regione che... Diamoci conto che il turista che arriva a Isernia, Venafro, Pietrabbondante, Sepino, spesso arriva in un deserto, non c'è nessuno, non c'è accoglimento, nessuno che ti dice cosa vedere o cosa fare, questo è importante insomma, le guide sono importanti. Sicuramente, è un problema nazionale, se ne sta discutendo, avevamo prima trovato un'intesa con il Ministro Centinaio, poi è caduto il Governo, adesso si è ripartito con il nuovo Governo e con il Sottosegretario Bonaccorsi proprio ieri a Roma, c'è stata una riunione sul tema specifico, ci auguriamo che quando prima si riesca a risolvere questo problema perché le guide purtroppo saranno a livello nazionale. E ma perché è così complicato, Assessore, alla fine creare questa figura di guida turistica? Non è disciplinato a livello nazionale, cioè non c'è una legge praticamente? E bisogna sistemarla, la legge che c'è non è attuale. E non può farlo la Regione autonomamente? Assolutamente no, l'ha fatto l'Umbria ed è stata osservata la legge perché non in linea con quelle che sono le disposizioni comunitarie che prevedono le guide a livello nazionale con esami nazionali. Abbiamo cercato di riportarla a livello regionale, però è molto difficile per via delle normative comunitarie. È incredibile come un paese come l'Italia poi alla fine si fermi per questioni burocratiche o normative. Succede sempre e in tutti i settori. Torniamo ai nostri inviati e vediamo questo nostro inviato nei sotterrani della cattedrale. Luca Inno che è un archeologo, Luca Inno che è anche esponente dell'ISARC, un'associazione archeologica di Sermina, conosciuto da tutti, insomma un personaggio veramente dal punto di vista culturale che dà tanto alla nostra città di Senna. Lo abbiamo inviato sotto la cattedrale. Luca Inno. Quanti anni ci sono voluti per realizzare un'opera del genere? Allora, grosso modo, un'opera del genere per le sue dimensioni e per la sua complessità molto probabilmente ci volevano dei 10 e 15 anni. La provenienza delle maestranze. La provenienza delle maestranze molto probabilmente veniva dai territori di origine dei coloni trasferiti nel 263 a Isernia dai Romani. Maestranze che molto probabilmente a Isernia hanno formato una scuola di scalpellini perché mi sembra molto improbabile che delle persone, degli artigiani, siano stati per 10-15 anni sempre gli stessi. Molto probabilmente questi artigiani della pietra, e mi spingo nel dire che non erano dei semplici artigiani della pietra, ma per realizzare un'opera del genere dovevano essere degli artisti della pietra, quasi degli scultori, e hanno formato, loro stessi hanno formato, delle maestranze autoctone qui a Isernia. E riattolaccendomi al discorso delle maestranze, noi siamo qui di fronte a un'opera sublime e meravigliosa, un unicum dell'architettura del periodo romano. Voi pensate che in un periodo storico, che era il periodo romano, dove non c'erano le tecnologie che abbiamo noi oggi, guardate la perfezione di questi blocchi. Scolpiti in un unico blocco di roccia, guardate la precisione e l'armonia di queste forme. Nella messa in opera di singoli blocchi del podio, non è andato tutto alla perfezione, ma la cosa sorprendente e molto affascinante sono le correzioni in corso d'opera che hanno realizzato le maestranze. Guardate in questo punto, questa è una correzione, una restremazione che è stata fatta in corso d'opera e guardate questa è un'altra correzione fatta a questo blocco che molto probabilmente il blocco arrivato dalla cava che non era molto distante qui dal punto dell'area sacra, erano stati fatti degli errori nel taglio della pietra e nel momento in cui sono venuti a posizionare questo singolo blocco nella prima assise del podio, hanno capito che c'era un errore e questo errore è stato corretto facendo un piccolo scasso sul blocco di base ovviamente cercando in qualche modo di rendere tutto uniforme. I piccoli errori, le piccole imperfezioni sono state corrette sempre in cantiere e sempre in corso d'opera con uno scalpello molto particolare che si chiama a gradina e guardate qui ci sono ancora degli inconfondibili segni fatti da questo particolarissimo scalpello. Questo è il contributo di Luca Inno nei sotterrani della cattedrale di Sene. Assessore Kenianis, chi ha visto Luca Inno che combina? Luca Inno è una risorsa importante per i Serni e per tutto il territorio. Non appena il sindaco mi ha nominato assessore io ho passato un buon periodo a seguire Luca come lui e tanti altri operatori culturali che proprio per quell'assenza di cui dicevamo prima delle guide turistiche sul territorio si prodicano gratuitamente a raccontare la nostra città ai tanti turisti perché non è vero che non arrivano i turisti a Esernia. Vi racconto solo l'ultima io il 31 dicembre di quest'anno ho avuto il piacere di salutare e parlare della nostra città a 50 turisti fiorentini e il bello è che quando vengono da città di cultura molto più blasonate come si diceva prima della nostra amata Esernia beh, ne rimangono stupefatti dicono ma è possibile che voi in Molise avete così tante cose belle e noi prima di venirci non eravamo coscienti non sapevamo ci fosse tutta questa storia e questa cultura in una città così piccola perché non se ne parla perché non riuscite ad esportare questo fortissimo brand che è il Molise al di fuori delle vostre mura beh, Nemo Profeta in Patria noi siamo bravi a lamentarci di ciò che non abbiamo ma non conosciamo bene abbastanza bene quello che abbiamo da poterlo promuovere esternamente io con Luca ho fatto un percorso di studi chiamiamolo così mi sono arricchito infatti anche nel primo servizio mi veniva da sorridere perché Sergio come la maggior parte delle persone che parlano dell'isernia sotterranea ha nominato le cisterne beh, io con Luca ho scoperto che in realtà sono dei criptoportici una parola che mi fa sorridere ogni volta che la pronuncio perché penso proprio all'amico Luca perché non potevano essere le cisterne per motivi particolari non erano impermeabilizzate e quant'altro ora non sto qui a raccontare la storia dei criptoportici e così mi ha corretto su tanti aspetti ideologici e che sono i criptoportici? i criptoportici sono dei locali sotterranei dove in epoca antica non so qual era la loro funzione reale in epoca più moderna erano utilizzate come cantine come depositi dove si stoccava anche il cibo e ancora oggi sono visibili molte di queste fanno parte di un percorso che Luca ogni ultima domenica del mese attiva vengono gruppi di 20-30 persone da fuori anche da fuori regione ma comunque da fuori sernia a visitare questo percorso che Luca fa visitare all'interno del centro storico e sono tutte cantine perché si entra dagli ingressi dei palazzi di privati di cui Luca ha le chiavi perché i proprietari si fidano talmente tanto da lasciargli le chiavi di ingresso e sono anche famiglie molto note in città dell'alta borghesia e quindi Luca riporta in questo percorso gli racconta la nostra esernia e sono tutti di esernia sotterranea di esernia sotterranea ogni ultima domenica del mese Luca lo fa anche adesso che per motivi di lavoro è fuori dalla nostra regione riesce a rientrare per non far venire meno questo impegno morale e sociale che ha preso nei confronti della nostra città e il bello è che molti serlini questa cosa non la sanno e io di questo mi dispiaccio dovremmo rendere onore al merito di chi si prodica gratuitamente per mettere a disposizione il proprio know-how la propria conoscenza che è una conoscenza riconosciuta una coscienza e conoscenza riconosciuta per far conoscere il nostro territorio ci sta facendo un'operazione di marketing territoriale a livello totalmente gratuito senza spendere un centesimo e l'acquedotto romano assessore è ancora in funzione è ancora in funzione uno dei pochi casi in Italia assolutamente sì soprattutto nella parte bassa del centro storico e c'è la cisterna principale che si trova non come è stato detto nel servizio presso l'ex lavatoio si trova al di sotto di piazza Tullio Tedeschi nel lato vicino al tribunale quella zona lì è dove esiste ancora oggi e tutte queste cose che le sto raccontando io le ho apprese attraverso tutti quei seminari che ogni anno nel settembre Sernino propongo alla cittadinanza purtroppo con una scarsa rispondenza di pubblico siamo molto bravi a parlare e a dire la nostra sui social come ha detto il gruppo che avete creato è cresciuto 3.500 utenti in una settimana se avessero seguito anche questo iter culturale che abbiamo proposto alla città negli ultimi anni probabilmente come me avrebbero imparato e scoperto molte più cose perché se ne dicono tante molte cose sono inesatte sì parliamo del Molise parliamo di Sernia ma parliamo anche nel modo corretto quindi ogni domenica che succede Assessore chi vuole conoscere i Sernia sotterranea che deve fare? prende accordi con Luca il quale ha sulla sua pagina Facebook parliamo di social media pagina di Isarc ha reso pubblici i suoi contatti prende contatti direttamente con Luca Inno che organizza queste visite guidate all'interno del centro storico si parte dalla fontana fraterna si entra nei vicoli si scoprono queste cantine sotterranee questi criptoportici in un percorso che idealmente ricongiunge Isernia da piazza Celestino Quinto fino ad arrivare addirittura alla cattedrale se potessimo avere risorse sufficienti per poter attivare una campagna di scavi in quella zona della città probabilmente scopriremo che questa fitta rete di cunicoli è un'unica grande strada sotterranea questa è una cosa che diceva Mauro Giovelli te lo ricordi Don Vincenzo Chiodi quello era fissato con l'isene sotterranea ha scritto tanti di quelle cose ce lo vuoi raccontare un po' ce lo vuoi ricordare Don Vincenzo è stato un personaggio da questo punto di vista aveva delle visioni delle visioni diciamo interpretava un po' a modo suo però per molte cose poi un prete archeologo archeologo dilettante scomparso da poco andava proprio nelle case che avevano accesso all'isene sotterranea anche lui aveva se non le chiavi comunque conosceva tutti i proprietari spesso è andato ad osservare a fare dei sopraluoghi in questi cunicoli sotterranei un paio di volte pure da mio cognato mi sono trovato pure io non sono sceso perché ho un po' timore di certi ambienti però l'isernia sotterranea è molto affascinante come situazione però io direi questo punto di non guardare solo nel passato perché bisogna considerare da questo punto di vista della candidatura anche l'offerta l'offerta culturale ai giorni nostri se no guardiamo sempre in dieta dalla prestoria alla storia dobbiamo guardare anche all'offerta attuale io credo che c'è stato e attualmente che possiamo offrire c'è stato un boom io ho fatto dei calcoli su al comune ho visto un po' se è incrementato gli eventi ai semi sono aumentati 4-5 volte da quando c'è l'auditorium questa struttura la struttura consente insomma è normale capirlo consente di fare tante cose che prima non si potevano fare abbiamo l'auditorium che è il posto al chiuso per spettacoli e manifestazioni più grandi della regione alcuni hanno parlato male per via dei costi comunque è una struttura utilissima sono circa 200 i giorni che ogni anno l'auditorium è attivo e offre qualcosa spettacoli teatrali spettacoli musicali grazie anche agli enti alle regioni alla provincia il comune soprattutto mostre di pittura mostre di fotografia convegni conferenze quindi quella che sembrava un'idea banzana poi alla fine c'è un'offerta straordinaria ieri come può essere il senno capitale della cultura oggi ma fermiamoci un attimo per i consigli della regia e poi torniamo eccoci di nuovo in studio con ingresso libero e chiediamo a questo punto visto che parliamo di hospitality e di strutture logistiche ricci approfittiamo che il presidente della provincia sta qui per cambiare un attimo argomento presidente stiamo inguaiati viabilità provinciale non ne parliamo soprattutto l'alto molise in condizioni drammatiche viadotto sente e poi l'altro viadotto quello per Bermonte del Sagne insomma viadotto sente e quello di Bermonte del Sagne viadotto verrino quello invece che porta a Agnone insomma stiamo rovinati perché poi sulla variante non possono passare i pullman e gli studenti non possono venire ad Agnone e neanche possono andare all'ospedale che sta facendo la provincia ma no un po' di cose sono cambiate devo dire in questi mesi sicuramente noi veniamo da anni in cui essendo venuti meno i trasferimenti a favore della provincia di Sernia per le manutenzioni ordinarie siamo passati da 3 milioni e mezzo che la provincia di Sernia riceveva nel momento in cui è entrata in vigore la legge del Rio quindi 2013-14 a 0 euro a partire dal 2015 cioè parliamo di questi numeri la provincia in questi anni ha fatto manutenzioni raschiando il fondo del barile dell'economia nel bilancio cioè da 3 milioni e mezzo che in qualche modo spendeva è passata a spendere se non 100 mila euro l'anno capite di che cosa stiamo parlando chiaramente perché non aveva più trasferimenti questo è quello che ha determinato che quelle che dovevano essere delle manutenzioni ordinarie non sono state fatte oggi che il ciclo sicuramente da un anno a questa parte è cambiato ci si è resi conto che dei trasferimenti sono necessari però abbiamo un gap di 3-4 anni in cui si è fatto 0 per colpa non di chi era qui ma di chi da Roma ha preso decisioni sbagliate ovviamente ma quelle che devono essere manutenzioni ordinarie oggi sono manutenzioni straordinarie se non addirittura messe in sicurezza necessarie per riaprire tratti di strada devo dire che però in questi mesi abbiamo cercato di correggere il tiro grazie appunto a una serie di trasferimenti che abbiamo avuti dallo Stato e anche dalla Regione sicuramente ci sono in programma interventi importanti sulla viabilità a livello di manutenzioni diciamo ordinarie anche se ripeto sono di fondo ormai straordinarie molte sono state realizzate in questi mesi prima dell'inverno soprattutto nelle aree più interne che poi sono quelle che hanno più bisogno della viabilità provinciale e parlo quindi dell'Alto Molise della Valle del Volturno della zona di Frosolone Macchia Godena parliamo di asfalto che è intervenuto lì dove per anni non era stato fatto sugli interventi più grandi a cui fa riferimento lei per esempio il viadotto Sente intanto noi abbiamo in qualche modo anche prendendoci una responsabilità abbiamo rimosso il limite che era stato posto un anno fa della circolazione sulla piccola variante che era stata realizzata per bypassare il viadotto Sente il divieto che era stato imposto ai pullman più grandi ai mezzi più grandi l'abbiamo in qualche modo assumendoci anche una responsabilità io personalmente ho fatto una richiesta alla struttura tecnica di rimuovere quel limite proprio per evitare soprattutto ai ragazzi che vanno a scuola dal basso Abruzzo su Agnone evitare quel giro quel viaggio della speranza che comportava anche un'ora di percorso però l'abbiamo rimosso limitando il divieto soltanto ai mesi d'inverno più rigido perché lì poi c'è un problema perché ci sono delle salite eccessivamente ripide che è difficile percorrere quando ci sono bufere questo ha consentito alla regione Abruzzo di dare un'autorizzazione a minibus che prima dovevano essere autorizzati per 12 mesi invece in questa maniera vengono autorizzati per pochi mesi con una spesa minore e quindi abbiamo fatto in modo con questa manovra che per 12 mesi i ragazzi in generale anche coloro che si recano in ospedale ad Agnone o che comunque frequentano la piscina ad Agnone le attività produttive di Agnone da Castiglione Messermarino e tutta quella zona del basso Abruzzo di arrivare in tempi più rapidi ovviamente c'è tutta la dinamica legata al Sente sappiamo che la provincia ha un finanziamento di 2 milioni di euro rispetto al quale però ci si è resi conto che non è sufficiente per fare per intero l'intervento e allora noi abbiamo tenuto una riunione credo decisiva a metà novembre a Roma con il vice ministro delle infrastrutture e i cancelleri eravamo presenti noi come provincia la regione con l'assessore Niro c'era il gruppo dei 5 Stelle sia la regione con il consigliere Greco sia in Parlamento con l'onorevole Federico e la parlamentare di Vasto dei 5 Stelle un po' tutti insieme con An abbiamo in qualche modo tracciato un percorso che è quello che deve portare Anas a gestire questo intervento a riprendersi in prospettiva quel tratto di strada perché è evidente che per poter realizzare un intervento importante ci vogliono vi è bisogno probabilmente anche di oltre 10 milioni di euro o comunque una decina di milioni di euro che io ho detto chiaramente che se se la sentono di darle alla provincia noi non abbiamo problemi ci sono speranze che l'Anas prenda in carico noi siamo in questi giorni proprio stiamo negoziando con l'Anas un accordo una convenzione quadro perché io l'unica cosa ho preteso che venisse messo per iscritto perché io comunque ho un finanziamento di 2 milioni che devo in qualche modo o spendere o veicolare in una certa direzione non è che posso restare in qualche modo anche col cerino in mano senza andare avanti e stiamo in questi giorni proprio discutendo con Anas di una convenzione che deve andare in questa direzione due binari paralleli gestione di un finanziamento che possa essere l'avvio di un percorso molto più importante finanzieramente per risolvere definitivamente la problematica e l'altro binario prospettiva di una statalizzazione cioè passaggio di quel tratto di strada ma di tutta la Existonia possibilmente ad Anas lei parlava anche di via d'Ottoverrino sul via d'Ottoverrino io quando sono stato eletto presidente ho trovato un finanziamento regionale che però era un po' diciamo stato messo in stand by però lavorandoci in un certo modo superando anche delle perplessità che gli uffici avevano ragionando con la regione abbiamo sbloccato quel finanziamento e sappiamo che è stato appaltato l'intervento è un finanziamento di 800 mila euro un intervento importante che consente di mettere in sicurezza la percorribilità lì non parliamo di una per fortuna di un problema strutturale ma di una percorrenza che era molto difficile soprattutto d'inverno e quella è un'arteria fondamentale per chi si reca ad Agnone insomma vi è un'attenzione forte verso l'Alto Molise la viabilità dell'Alto Molise verso in generale le aree interne adesso nella prossima primavera ed estate avremo anche degli interventi importanti nella valle del Volturno che è un'altra zona che ha nelle strade provinciali un riferimento essenziale e così anche la zona dall'altro lato di Macchiagodena e Frosolone per intenderci come zona geografica noi come Venafro e Isernia in realtà abbiamo bisogno della provincia ma se anche la provincia rallenta non è che in qualche modo abbiamo difficoltà ad andare a lavorare ad andare a scuola ad andare in ospedale invece per le zone interne la provincia è essenziale perché senza provincia senza una viabilità seria abbiamo avuto dei confronti importanti anche con i comuni che risentono più nel periodo invernale della problematica della neve rispetto alla quale la provincia ha un ruolo fondamentale senza una provincia efficiente sul territorio e la Fresilia è la grande sfida è un altro problema quella è una scommessa è un investimento è una prospettiva la prospettiva che deve servire in qualche modo a far sì che le aree interne non siano più aree interne ma siano aree aperte aperte canali infrastrutturali regionali sono aperte solo le buche sono aperte solo le buche no attenzione attenzione no quando parliamo di Fresilia noi abbiamo vari lotti quello che riguarda la provincia è un finanziamento regionale di 40 milioni di euro su cui per il quale stiamo lavorando a mettere in piedi tutte le procedure che serviranno a realizzare questo nuovo asseviario attenzione quando parliamo di Fresilia con la provincia parliamo di una nuova strada che dovrà attraversare le aree interne Frosolone fino a Agnone e appunto in questo senso di correnderle aree aperte perché creare un canale importante di collegamento verso il capoluogo di regione ma verso anche i canali extraregionali e quindi l'Abruzzo attraverso il capoluogo di regione poi verso la costa e così poi un collegamento diretto verso anche la zona poi autostradale andando nella direzione di Serne e Venafro è una grande sfida una grande scommessa a cui si è lavorato in questi anni io oggi insieme alla mia amministrazione stiamo ragionando oggi anche pomeriggio abbiamo parlato con il presidente oggi pomeriggio abbiamo tenuto una riunione alla regione col presidente Toma con l'assessore Niro in cui abbiamo discusso di viabilità in particolare proprio di fresilia e di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale e su questo ripeto c'è anche una scelta strategica della regione il governo regionale ha dato una prospettiva importante di vicinanza alle amministrazioni locali che siano le province e i comuni proprio perché crede molto in questo discorso della viabilità per garantire percorribilità sicurezza e anche per creare i cantieri con tutto quell'effetto moltiplicatore sull'economia che i cantieri determinano facciamo una domandina extra anche al vicepresidente Cotugno avete nominato il nuovo direttore generale del LASREM entro il mese di gennaio entro il mese quanti sono arrivati sul traguardo in quanti sono credo che siano 12 o 15 la commissione so che sta lavorando è un processo che sta seguendo il presidente Toma in prima persona credo che entro il mese di gennaio si potrà arrivare alla domanda avremo il nuovo direttore generale d'ASME il presidente Cotugno ha visto insomma la situazione qual è bisogna fare tanto bisogna fare ma soprattutto bisogna sostenere economicamente queste iniziative che cosa fa la regione con il piano regionale per il turismo a che punto siete che cosa state facendo con il bando ci aggiorna sul punto della situazione intanto il piano strategico del turismo che noi abbiamo fatto coinvolgendo come dicevo prima tutto il territorio con i tavoli tematici oltre mille interventi di stakeholder di amministrazioni che ci hanno dato risultati ha dato frutti credo che sia stato un grande lavoro che noi abbiamo poi messo all'attenzione del consiglio regionale è stato approvato oggi abbiamo a disposizione un vero e proprio piano di sviluppo di questa regione pronti per la prossima programmazione comunitaria 2020-2027 sappiamo che il Molise purtroppo da una parte fortunatamente è una grande opportunità dall'altra rientreremo nell'obiettivo 1 con un piano strategico del turismo approvato e pronto io credo che giocheremo una grande carta proprio sui tavoli romani e comunitari per avere i finanziamenti per il vero sviluppo di questa regione che passa attraverso il turismo la cultura perché il turismo e la cultura sono elementi trasversali che coinvolgono l'artigianato il commercio l'agroalimentare i prodotti di eccellenza riescono ad essere strategici su tutto il territorio regionale coinvolgendo tutti gli attori e tutto il territorio credo che abbiamo fatto un gran bel lavoro abbiamo in corso ormai la gradatoria si sta lavorando sulla gradatoria della microricettività per dare maggiore sostegno alla ricettività nella nostra regione e il recupero dei borghi storici perché ieri a Roma all'Enit il piano strategico dell'Enit 2020 parlava soprattutto di borghi storici la regione molise è la regione dei borghi perché su 136 comuni solo 11 sono comuni al di sopra di 5 ma recentemente avete approvato anche la nuova normativa per i bed and breakfast Codugno abbiamo allargato un poco a che cosa lei sa che esiste contemporaneamente a quella dei bed e breakfast anche l'ospitalità in Airbnb cioè le case vacanze i B&B lì però non è stata regolamentata perché è regolamentata secondo le case vacanze ancora non le fate è stato regolamentato il B&B secondo le leggi nazionali poi è stata aumentata la ricettività per quanto riguarda il turismo rurale diciamo per dare la possibilità anche di promuovere una maggiore ricettività sul territorio fino a poco tempo fa non c'era proprio la norma regionale che normasse insomma il discorso dei bed and breakfast e dei B&B non c'era proprio la norma venivano tutte assimilare oggi è stato tutto normato e tutto normato però tutto quando questo rientra all'interno del piano strategico del turismo che credo tra settembre e ottobre noi avremo il testo unico sul turismo quindi comunque attualmente non hanno queste norme i comuni o le hanno già le nuove norme le nuove norme certo che le hanno sui B&B e sulle case vacanze è tutto normato tranquillamente possono operare senza nessun tipo di problema bene ci fermiamo un altro po' per guardare per dare ancora un'occhiata al passato in particolare torniamo a ottobre ottobre Celestino giusto? abbiamo invitato questa sera Emilia Vitullo che fa parte della commissione che selezionerà i progetti la dottoressa Vitulla per motivi personali non ha potuto partecipare ma noi comunque la faremo partecipare vediamo come con questa intervista che le ha fatto il nostro Sergio di Vincenzo nel giorno del dedicato a San Pietro Celestino il giorno della rievocazione dell'arrivo in città di San Pietro Celestino Emilia Vitullo direttore artistico di questa rievocazione storica dedicata al Santone è stata di parola qualche anno fa proprio a viaggio in Molise disse che aveva in mente di fare qualcosa di grande per ricordare il ritorno del Santone di Papa Celestino V in città è stata di parola e stasera c'è stata questa bellissima rievocazione storica che ha colpito davvero tutti grazie delle parole di bontà ma io quello che che mi ha pagato maggiormente al di là dello spettacolo indubbiamente è riuscito bene ma lo spirito con cui è nata l'idea di questa rappresentazione era quello di fare qualcosa di diverso di non avere soltanto attori o figuranti o ragazzi giovani eccetera ma quello che Isernia si incontrasse in un punto e facesse qualcosa per se stessa quindi la riscoperta di Celestino passava anche per questa partecipazione corale che poi c'è stata e che mi ha gratificato molto perché insomma è stato un bell'atto di fiducia da parte di tanti anche amministratori il sindaco il presidente della provincia ma tanti l'assessore alla cultura tanti illustri personaggi insomma della nostra città che hanno accettato per così dire di esporsi però per esserci per prendere parte e questo è stato l'aspetto più bello di questa manifestazione sicuramente Isernia che c'è che ci vuole essere che vuole immaginare di fare qualcosa per se stessa è stato l'aspetto che più mi ha gratificato raccontiamo spieghiamo ai telespettatori cosa accadde il 15 ottobre del 1294 accadde che Celestino era stato eletto papa a Perugia aveva scelto di essere poi investito della carica papale nella basilica di Collemaggio che lui stesso aveva costruito in L'Aquila Carlo II d'Angio il re di Napoli lo convince a trasferirsi nel suo castello di Napoli da dove poi Celestino terrà il papato fino alle dimissioni in dicembre e parte per questo viaggio alla volta di Napoli passando per Sulmona ed avrebbe dovuto continuare per Cassino quindi facendo tutt'altro percorso lì pare le fonti storiche questo dicono che il papa abbia imposto una deviazione per venire a Isernia e questo accadeva il 14 e 15 ottobre del 1294 è un fatto straordinario ove mai ce ne fosse bisogno è anche la dimostrazione che Celestino aveva qui ancora degli affetti c'era un fratello c'erano due nipoti figli di un fratello defunto è stato qui due giorni ha donato al capitolo della cattedrale in quell'occasione le due croci che sono custodite nel tesoro del capitolo e che ieri eccezionalmente sono state anche esposte nel corso della messa solene quindi è un fatto storicamente acclarato non sono io a dirlo ovviamente sono studiosi molto migliori di me Don Claudio Palumbo o meglio Monsignor Claudio Palumbo e Fernando Cefalogli che hanno fatto da consulenza storica e che quindi si conosce di questo viaggio tutte tappa per tappa giorno per giorno e quindi il 14 e 15 ottobre è venuto a Isernia per l'ultima volta perché c'era già stato a fare altre opere straordinarie la chiesa di Santo Spirito aveva costituito la frataria la confraternita di Celestino avevano costruito ospedali cose straordinarie anche per l'epoca perché per Celestino la misericordia di Dio era qualcosa che andava praticato anche nel mondo verso i fratelli e quindi era portatore di questo messaggio che per l'epoca era straordinario non esistevano certo i servizi sociali insomma quindi è stato uno dei primi a immaginare di occuparsi dei poveri dei bisognosi e dei pellegrini e quindi Isernia portava forte già la traccia di Celestino il suo ritorno immagino deve essere stato qualcosa di straordinario perché vederlo entrare Papa in città all'epoca sarebbe stato bello esserci e allora non essendo stato possibile quello abbiamo provato a immaginare che emozione potesse essere questo passaggio del Papa Santo e tra qualche istante lo vedremo nel dettaglio il passaggio del Papa Santo perché finiremo la trasmissione proprio con un filmato sul passaggio di Celestino quindi io saluto gli ospiti ma prima di salutare gli ospiti l'assessore Cotugno vuol lanciare un messaggio un appello assessore ma io dico che se siamo in pochi a sognare forse il sogno resta tale se invece siamo in tanti tutti a sognare quel sogno può diventare una realtà voglio dire che tutta la regione Molise si deve stringere intorno alla città di Isernia a questa sua candidatura e se remiamo tutti quanti nella stessa direzione riscoprendo l'orgoglio di essere molisani e in questo caso tutti con la città di Isernia il sogno sicuramente si realizzerà bene si chiude qui questa puntata di ingresso libero la prima puntata di un ciclo di trasmissioni condotte settimana per settimana dai giornalisti di Telemolisi e dal direttore di Telemolisi Emanuela Petescia anche lei farà delle trasmissioni staremo sempre sul pezzo sull'argomento più importante della settimana ringrazio Eugenio Cnianischi Mauro Gioielli Alfredo Ricci Vincenzo Cotugno vi lascio con una sintesi una bella sintesi dell'arrivo di Papa Celestino a Isernia grazie a voi tutti buona serata e appuntamento con un mio collega al venerdì prossimo sempre all'eventuro questa trasmissione se non sbaglio va in replica anche domani dopo il telegiornale delle 14 ma poi domani vi daremo notizia nei nostri telegiornali adesso vediamoci questa sfilata e io vi saluto grazie dell'attenzione e buonanotte a tutti i telespettatori grazie a tutti 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 grazie a tutti